Nome? Alessandro. Cognome? Allevi. Età? 22. Città natale? Cantù. Che lavoro fai? Barma. Classico freestyle? Classico. Perché? Classico così, perché freestyle, non che non sono all'altezza, però per adesso va bene classico. Nome del locale dove lavori? Crystal Cafè. Cosa ti piace del tuo lavoro? Mi piace stare a contatto con la gente, mi diverto con loro, quando ritorno al locale sono contento. Tutto quello. Hobby? Hobby il nuoto e la moto. Il nome del tuo cocktail Absolute? Vanity Absolute. Perché dovresti vincere tu? Perché è buonissimo. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà su web? Ragazzi votatemi, anche perché se non vado in finale direttamente qua mi mandate voi e poi ci vediamo tutti al mio locale. Fai un saluto? Ciao a tutti.